D'Omer Mineral Herrar, bentrovati. Quando pensiamo alla guerra fredda, la prima cosa che ci viene in mente è la classica divisione tra blocco orientale e blocco occidentale. E molto raramente la prima cosa che può balzarci alla testa è quel conflitto che si infiammò all'interno dello stesso universo comunista, tra i due massimi rappresentanti, cioè la Cina e l'Unione Sovietica. Ed è un peccato perché, se vista con attenzione, la storia delle tensioni sino-sovietiche è un resoconto tanto intricato quanto affascinante. Sono stati molti i commentatori che pensano che l'apice, il climax di questa tensione, sia sfociato nella battaglia dell'isola di Zembao nel marzo del 1969. Zembao fu una disputa territoriale che vide contrapposto un centinaio di truppe cinesi contro circa 300 soldati sovietici per il controllo di quest'isola al confine tra i due paesi. Ma in realtà questo incidente militare non era altro che la punta dell'iceberg di una tattica di logoramento sia diplomatico che psicologico che era iniziata ben oltre un decennio prima. Ma vediamo quantomeno di aprire una finestrella su quella cortina di ferro secondaria, tra virgolette, che regnava al di là di quella cortina che la storia ci ha fatto conoscere meglio. Andiamo! Possiamo vedere la crisi sino-sovietica come uno degli eventi, senza dubbio più significativi ed emblematici, che si è instaurato durante la Guerra Fredda. Per quale ragione però i rapporti di alleanza tra Cina e Unione Sovietica, osannati dai rispettivi promotori come indistruttibili ed eterni, si sono improvvisamente interrotti intorno alla fine degli anni 50, trasformando le relazioni bilaterali in una sorta di aperta ostilità e addirittura in qualche caso specifico in veri e propri scontri militari? Questa è stata una domanda che ha affascinato, allo stesso tempo confuso, generazioni di studiosi. Ne sono venute fuori di conseguenza a varie ipotesi riguardanti l'origine di questa tensione. Secondo alcuni, la rottura è da debitare in gran parte all'ambizione del Partito Comunista Cinese, il cosiddetto PCC, di voler competere per la leadership nel Movimento Comunista Internazionale. A questo andavano aggiunti i conflitti personali tra le due figure leader dell'epoca, Mao Zedong e Nikita Khrushchev, il quale era subentrato nella metà degli anni 50 al suo predecessore Stalin. Nel caso delle loro specifiche personalità, i due leader erano in aperto conflitto. Erano, come dire, il giorno e la notte. Ma nonostante questo problema, i due riuscirono in qualche modo ad andare d'accordo almeno fino al 1958. E da quell'anno, fino alle dimissioni di Khrushchev nel 1964, i disaccordi tra Cina e Sovietici si aggravarono ulteriormente, fino a sprofondare in una vera e propria crisi alla fine degli anni 60. Vista da un'altra prospettiva, la crisi poteva poi essersi originata da una delle tante altre contraddizioni a livello strutturale tra i due regimi. Il rapporto politico tra Mosca e gli altri paesi socialisti si basava principalmente su una serie di dottrine di stampo leninista che puntavano all'esaltazione di concetti come l'autorità gerarchica, la disciplina e l'obbedienza. Davanti a tutte queste differenze strutturali, era quindi logico che ci fossero delle tensioni inevitabili nell'universo politico-socialista. Ed è nel 1956 che, tradizionalmente, si fa ricondurre l'inizio delle frizioni tra i due paesi. Frizioni che sarebbero sfociate direttamente dalla denuncia che Khrushchev fece nei confronti dell'ormai defunto Stalin, con il famoso discorso segreto sul culto della personalità del dittatore sovietico. Con l'accusa di Khrushchev, secondo cui, e qui cito, Stalin era un criminale, un maniaco, responsabile personalmente per le sconfitte e le disgrazie di nazioni, un paranoico assetato di sangue con un potere dispotico illimitato, il rapporto tra Cina, rimasta ancorata ancora alla figura del defunto leader, e Unione Sovietica iniziò ad incrinarsi. Ad aggravare il tutto ci furono poi altri atteggiamenti più o meno ambigui di Khrushchev, come ad esempio l'incontro col presidente Eisenhower, la critica feroce al fallimentare piano economico di ripresa cinese, il cosiddetto grande balzo in avanti, e le accuse di nazionalismo rivolte allo stesso leader cinese durante il congresso del partito romeno nel 1960. Era ovvio che un alleato pluriennale come Mao si dimostrasse contrariato davanti a tale affermazione. Il primo luglio 1949 Mao aveva annunciato in pubblica piazza che la Cina comunista si sarebbe schierata apertamente dalla parte dell'Unione Sovietica. All'epoca di questa dichiarazione il PCC aveva ormai praticamente vinto la guerra civile. Il rivale di Mao, Chiang Kai-shek, era fuggito a Taiwan, e solo a quel punto il leader cinese poté indirizzare i suoi sforzi nel tentativo di collocare la Cina in una posizione di rilievo in un mondo adombrato dallo scontro politico, economico o militare tra Unione Sovietica e Stati Uniti. In un certo senso possiamo vedere la scelta di Mao di schierarsi con l'URSS come un qualcosa di naturale, di obbligato. Certo, Mao aveva la sua grossa parte di divergenze con Stalin, una delle tante era ad esempio il rinfacciargli la mancanza di fiducia nella rivoluzione cinese, ma non erano questi disaccordi politici e ideologici che alla fin fine avevano compromesso la natura del rapporto tra i due. Per questo motivo Mao, all'epoca di Stalin, si vedeva ancora come una sorta di leader subalterno nella gerarchia rivoluzionaria sovietica a livello globale e anche a livello piuttosto regionale. E quando Stalin era ancora in vita, Mao non aveva cercato più di tanto di spezzare questo vincolo, chiamiamolo così, di sudditanza implicita. A questo bisogno poi bisogna aggiungere un'altra assurdità, un'incongruenza tra le due alleanze stipulate. Se per la Cina il patto con i sovietici fu un giro di boa fondamentale nella sua storia contemporanea, con cui potersi finalmente aprire al mondo delle relazioni internazionali in qualità di nuovo stato socialista, per l'Unione Sovietica l'avvicinamento della Cina non rappresentava altro che l'arrivo di un'altra pedina all'interno dello scacchiere di alleati che Mosca poteva benissimo permettersi in lusso di trascurare rispetto a quelli che erano gli obiettivi principali. Per il leader cinese, Stalin, pur avendo commesso degli errori, era, e qui cito, un grande propugnatore di stampo marxista-leninista, e condannarlo con fermezza era di conseguenza paragonabile al fatto di alzare un macigno solo per poi farselo cadere sui piedi. A ciò andava contemplato anche un elemento di tipo personale e caratteriale, perché, e qui forse farà sorridere la cosa, ma anche Mao era molto, ma molto simile a Stalin. Anche lui aveva fatto ricorso alla repressione contro chi veniva percepito come un antirivoluzionario. E allo stesso modo del suo collega Mao godeva di un culto della personalità praticamente simile a quello di Stalin. In un certo senso, quindi, il processo di destalinizzazione che prese piede dalla morte di Stalin fu visto da Mao come un attacco personale al suo regime, ma prima di tutto a se stesso. Stalin non era solo un uomo, un dittatore, ma era anche ben altro. Era un simbolo, l'incarnazione di un regime che si estendeva su un territorio di 22 milioni di chilometri quadrati e che si era distinto per l'aver adottato un modo di fare politica risoluto, determinato, dal pugno di ferro. Il vecchio precetto da lui propugnato, e cioè quello della inevitabilità del conflitto tra capitalismo e socialismo, e della stessa lotta di classe, con l'avvicinamento pacifico di Khrushchev con gli Stati Uniti, sembrò perdere consistenza, fino ad arrivare a sminuire al limite del ridicolo i precetti che avevano fondato le strutture dell'Unione Sovietica di Stalin e di converso di tutto quanto il mondo comunista. Per Mao era imperdonabile, ed era altrettanto logico, scagliarsi contro le politiche di Khrushchev, etichettate da lui, tra virgolette, come delle follie revisioniste. Tutto questo pose le basi per il conflitto ideologico negli anni Sessanta, eppure, anche nel tentativo di spiegare le motivazioni e la base delle tensioni e della mancata guerra tra Unione Sovietica e Cina, con un approccio tra virgolette ideologico, ci sono dei problemi non indifferenti che non fanno altro che incrementare il divario tra i due paesi. La teoria secondo cui Mao, a differenza di Khrushchev, avrebbe sostenuto concretamente l'avvio di una guerra nucleare chiedendo una politica più ostile nei confronti dell'Occidente, avrebbe però un problema. Cioè non tiene conto di una particolare abilità politica che in inglese si chiama brinkmanship. Ma da dire in sostanza, come posso dire, far c***e addosso l'avversario dalla paura, sfruttando la psicologia delle minacce. Ecco. Mao avrebbe sottovalutato la capacità di Khrushchev di utilizzare questa brinkmanship in tutte le realtà satelliti sovietiche, da Berlino Est a Cuba. Ma la brinkmanship era solo uno dei tanti dettagli che mancavano nella visione di Mao. La differenza sostanziale tra i due era lo spettro, l'ampiezza della portata politica che Khrushchev riusciva ad esercitare al di fuori dei confini dell'Unione Sovietica. Cosa che Mao difficilmente riusciva a fare con la stessa efficacia. Nel novembre del 1957, quando Mao invitò a cuor leggero tutto il mondo comunista ad avviare una guerra nucleare che, secondo lui, da una parte avrebbe scombussolato, annientato il capitalismo e dall'altra favorito il socialismo, questo fatto preoccupò profondamente i leader sovietici che temevano che i cinesi, con quei commenti scansonati, potessero trascinarli effettivamente in una guerra nucleare. Eppure, fino al 1964, la Cina non aveva nemmeno una bomba atomica. Le dichiarazioni controverse di Mao erano spesso fatte solo per il gusto di adottare una posizione moralmente elevata, dominante. In realtà, il leader cinese però faceva il contrario. Agiva spesso con cautela e circospezione, anche in casi di particolare attenzione come ad esempio la crisi dello stretto di Formosa, dell'isola di Taiwan, nel 1958, quando Mao ridimensionò con cautela le ostilità nei confronti dell'isola avversaria, lasciando anche in un certo modo Khrushchev perplesso su ciò che il leader cinese intendesse realmente fare. Ma faremo un grosso errore, un errore madornale, a non ammettere che l'ideologia, comunque, indipendentemente dai suoi effetti dilatatori, come causa delle tensioni, non svolgesse un ruolo di primo piano sia per Pechino che per Mosca. Ma perché? Beh, perché l'ideologia era prima di tutto uno strumento, un modo per legittimare e razionalizzare le azioni intraprese dal regime, in un rapporto politico strozzato, soffocato, da una rigida struttura gerarchica come quella che era insita nel comunismo. Se si presenta una crepa nel sistema, la prima cosa da fare è vedere se esiste effettivamente una componente ideologica che diverge dal sistema, che è differente, che vuole separarsi dalla struttura principale, altrimenti come si potrebbe mai giustificarne la rottura? A dire il vero, Mao era un realista e sapeva fin troppo bene che l'Unione Sovietica era molto meglio posizionata rispetto alla Cina per la leadership globale. Era una supremazia industriale, aveva il vantaggio economico e tecnologico, possedeva l'arma nucleare. La Cina aveva sì un grande potenziale, ma non poteva ancora competere sul suo stesso piano. Difatti fu proprio in parte a causa della consapevolezza dei propri limiti che nel 58 Mao decise di compiere quel grande balzo in avanti, quel piano di riforma economica, sociale e agricola che avrebbe dovuto proiettare il paese tra le fila delle superpotenze mondiali. Tuttavia la morte di Stalin mise anche in chiaro un'altra cosa, e cioè che Mao voleva svettare come leader globale e che per poter ottenere questo presupposto il dittatore cinese si aspettava una certa deferenza da parte di Khrushchev. In fondo era stato Stalin ad imporre la tipica struttura scompartimenti della società sovietica. Per quanto profondamente sia sbagliata questa figura, bisogna ammettere comunque che la caratura di Stalin era difficilmente imitabile da altri personaggi. Anche da morto Stalin era lì, che dall'oltretomba dettava ancora le regole del gioco. Solo quando cadde finalmente dal piedistallo si aprì la possibilità di adottare una sorta di ristrutturazione generale, come quando bisogna risistemare gli interni di una casa vecchia e pericolante. E, come era ovvio, Mao voleva, anzi pretendeva, che le sue opinioni di rinnovamento fossero prese in seria considerazione. Il problema era che il rinnovamento di Mao non coincideva affatto né con quello di Khrushchev, né tantomeno lo si poteva considerare un rinnovamento vero e proprio. Fu sulla base di queste premesse ideologiche che la Cina intervenne in maniera alquanto subdola in tutte quelle rivolte antisovietiche che scoppiarono a metà degli anni 50 in Polonia e in Ungheria, come anche nel caso della tensione tra l'Albania di Enveroccia e l'Unione Sovietica. In pratica Mao pensò bene di mettere un po' di zizzagna qua e là, spacciandosi per, come dire, il lato buono del comunismo. Semplifichiamo al massimo. Ma l'Albania e i Balcani non furono l'unico teatro. C'era ad esempio tutto il sud-est asiatico, in particolare il conflitto in Vietnam e i massacri in Indonesia tra il 65 e il 66 ai danni del PKI, il partito comunista indonesiano, o anche lo scenario africano come quello dell'Angola. Insomma, come noi possiamo ben vedere, il dissidio tra Cina e Unione Sovietica è una tensione che si protrae per un lungo periodo e che coinvolge tantissimi attori. Analizzare lo scontro tra Khrushchev e Mao significa semplicemente grattare la superficie della crosta terrestre. Ma le sole differenze personali e ideologiche non bastarono a causare una frattura vera e propria. Oltre alle accuse implicite a Khrushchev di inadeguatezza al suo ruolo, Mao non si azzardò mai ad andare. Difatti, nel novembre del 57, durante la sua seconda e ultima visita a Mosca, il leader cinese proclamò pubblicamente l'Unione Sovietica come guida assoluta del movimento socialista mondiale e inviò tutti i partiti comunisti a rispettarne la supremazia. Un fatto molto strano e incoerente, potremmo dire. Perché Mao sembrò rientrare nel greggio di pecorelle sovietiche gestite da Khrushchev. In realtà dietro si nascondeva ben altro. Appoggiando i sovietici, il leader cinese faceva capire al mondo una cosa. E cioè che era lui a svolgere implicitamente il ruolo di stratega, di visionario a capo del movimento comunista internazionale. In pratica, cantandosela e suonandosela da solo e spacciandosi per esperto rivoluzionario, autoproclamandosi teorico del marxismo-leninismo, Mao voleva diffondere con astuzia l'immagine di sé di un leader infinitamente più qualificato per il possesso, la leadership post-stalinista. Ma Khrushchev, sempre più sicuro di sé in patria e fiducioso nelle sue mosse di politica estera, non era affatto disposto a dare al suo collega cinese una vera e propria voce in capitolo. Un bizzarro episodio del 1958 ci illustra la profondità dell'amarezza di Mao per quella che lui percepiva essere l'arroganza sovietica. L'episodio riguardava la proposta dei russi di costruire una flotta navale comune, cosa che Khrushchev non aveva ritenuto particolarmente strana data l'intimità dei rapporti tra Cina e Unione Sovietica. In effetti il rapporto era addirittura talmente intimo tra le due parti che nel 1957 Khrushchev accettò persino di fornire alla Cina un primo prototipo di bomba atomica. Quindi alla notizia della proposta sovietica di creare una flotta unificata, Mao si infuriò e disse in una conversazione famigerata, voi sovietici non vi fidate mai di noi cinesi, per voi esistono solo i russi, sono loro i primi della classe, mentre chissà perché noi cinesi siamo sempre quelli inferiori, quelli disattenti. L'episodio è molto interessante perché la crisi di Neri di Mao non fu del tutto casuale, in realtà si trattò di una manovra calcolata per esprimere il suo resentimento nei confronti di quello che i cinesi ritenevano essere l'atteggiamento prepotente di Mosca nei confronti di un alleato chiave. Dobbiamo credere a Mao che i sovietici si comportavano in modo arrogante come lui diceva, oppure forse era il contrario, cioè che il loro atteggiamento venisse recepito come presuntuoso da un alleato forse troppo sensibile. Volente o annolente tutte le azioni di Khrushchev venivano interpretate da Mao in relazione alle vecchie azioni imperialistiche della Russia nel ventesimo secolo e anche prima nei confronti della Cina, che aveva ancora il vivido ricordo della politica di espansionismo russo in Estremo Oriente, in zone come ad esempio la Manciuria. La polemica fu inoltre fomentata a più riprese dalla classe dirigente cinese che, davanti a riscaldarsi degli eventi, definì pubblicamente nei discorsi di propaganda Khrushchev come un prepotente capitalista, mentre l'Unione Sovietica uno Stato socio-imperialista. Che l'URSS subordinasse i paesi dell'Unione ai propri interessi è indubbio, ma spesso sacrificava anche benefici materiali immediati per se stessi, destinandoli invece a favore di altre nazioni all'interno della sua orbita. Un'ulteriore variabile nell'equazione delle relazioni sino-sovietiche fu poi la posizione molto ambigua degli Stati Uniti e i suoi rapporti sia con Pechino che con Mosca. Nel primo decennio della Repubblica Popolare Cinese il tripolarismo che Khrushchev avrebbe cercato era del tutto sbilanciato, cioè gli Stati Uniti mantenevano rapporti diplomatici con Taiwan e contribuivano allo stesso tempo a rafforzare l'isolamento globale, diplomatico ed economico, della Cina. Davanti a questa situazione Mao accolse con apparente entusiasmo la politica di non riconoscimento dell'America, quella che poi venne identificata come dottrina Stimson, non che avesse altra scelta in merito. Anzi, come affermò nel 1958, non credo sia un male che gli Stati Uniti non ci diano i nostri giusti riconoscimenti. Anzi, è una buona cosa, perché questo ci spinge ancora di più a produrre più acciaio per i nostri interessi, diciamo 600-700 milioni di tonnellate, e a quel punto dovranno per forza di cose riconoscere la nostra potenza. Eppure il leader sovietico aspirava a un qualcosa di più grande, cioè far sì che l'America vedesse l'Unione Sovietica come una nazione alla pari. Agli occhi di molti commentatori americani, Khrushchev puntava essenzialmente a un successo per la coesistenza competitiva, a carattere economico, con tutto il resto dell'Occidente. Oltre all'intenzione di sorpassare gli Stati Uniti nella produzione di vari beni di consumo, Khrushchev nutriva anche un'altra pretesa molto importante, e cioè quella di eguagliare, se non addirittura superare, la superpotenza americana con la costruzione di un arsenale nucleare che, tramite l'implementazione dei missili balistici intercontinentali, poteva minare la lunga invulnerabilità dell'America ad un attacco esterno. Minacciando di sganciare sull'Occidente tutte le bombe nucleari a disposizione, Khrushchev era conscio di poter ricorrere, quando voleva, alla psicologia intimidatoria e, diciamo così, nucleare per perseguire i propri obiettivi di politica estera. Fu proprio questa rinnovata autorevolezza a spingere Mosca verso una successione di crisi internazionali a cavallo tra il 1958 e il 1962, la più importante delle quali fu la famosissima crisi dei missili di Cuba. Ma, al contempo, nonostante le aperte dichiarazioni di ostilità, Khrushchev fece anche il doppio gioco, stavolta sotto banco, cercando di aprirsi una strada verso un rapporto personale col presidente americano Eisenhower, con cui riuscì, alla fine del 1959, ad incontrarsi dopo una visita molto pubblicizzata negli Stati Uniti. I due statisti, dopo quell'incontro, inaugurarono quello che venne riconosciuto come lo spirito di Camp David, un'atmosfera, per così dire, più distesa, a livello psicologico, delle tensioni tra i due paesi, che sembrarono per un certo momento quasi abbandonare la pretesa di ricorrere al deterrente nucleare. Ecco perché la polemica cinese alla distensione diplomatica dei sovietici con gli statunitensi non fece altro che intensificare il dissidio tra Khrushchev e Mao, che adesso accusava addirittura il leader sovietico di apertura ai dogmi dell'Occidente. Dal suo punto di vista, Khrushchev si era alleato con il nemico cinese per intimidire l'alleato storico dei russi, cioè i cinesi. Il peccato di essere entrati in combutta con gli Stati Uniti diventò a quel punto una costante nei discorsi politici della Cina. Come riportò il ministro degli esteri Chen Yi nel 1962, ora nel mondo i grandi paesi fanno i prepotenti con paesi ancora più grandi, come nel caso dell'America, dell'India e dell'Unione Sovietica con la Cina, che si ritrova ad essere il paese più maltrattato del mondo, vittima di bullismo da parte delle grandi e delle piccole potenze. E, come era logico, Khrushchev, in parte a causa del suo temperamento avventato e della sua propensione a pensare solo dopo aver agito, era particolarmente esposto alle accuse di bullismo dei leader cinesi. Fatto sta che le asimmetrie nel rapporto sino-sovietico erano molto evidenti e pendevano chiaramente dalla parte dell'Unione Sovietica. Per buona parte di ciò che Mosca forniva ai cinesi in termini di tecnologia militare, aiuti economici e altre forme di assistenza, Pechino aveva poco da offrire, a parte prodotti grezzi e materiali semilavorati. Anche il 1964 poi non contribuì certo ad alleviare la disputa tra i due, quando le accuse di complicità con gli americani si legarono in particolare alla guerra in Vietnam, dove Pechino accusava i sovietici di aiutare gli statunitensi a trovare una via d'uscita fuori dal conflitto. L'anno successivo, nel 1965, Mao dichiarò apertamente al nuovo primo ministro sovietico Alexei Kosygin che la tensione sino-sovietica sarebbe perdurata per almeno altri 10.000 anni. Ottimista, bisogna ammetterlo. Alla domanda su cosa pensasse a proposito dei disaccordi tra due paesi, Khrushchev disse È una questione di nazionalismo, una questione di egoismo. Questa è la sostanza. I cinesi vogliono essere i primi a suonare il loro violino nel concerto internazionale, ma una cosa del genere non la si stabilisce con un voto. Si determina con lo status, con il riconoscimento da parte degli altri. Lo stesso avviene quando siamo tra amici. Mettiamo caso ci siano 5-10 persone che compongono il nostro gruppo di amici. È inevitabile che uno di questi svolga la funzione di leader. Ma nessuno lo elegge. Questo è determinato dal proprio status e dal riconoscimento degli altri. Non lo eleggono, semplicemente lo considerano tale per determinate qualità implicite al suo carattere. Così è e così sarà in futuro. Non tutte le persone hanno i capelli castane o rossi. Ci saranno sempre diversi colori, diversi temperamenti e diverse capacità mentali a dividere le persone. Ci saranno sempre disuguaglianze e differenze, come altrove in natura. Personalmente la trovo una delle dichiarazioni pubbliche più intriganti della carriera politica di Khrushchev. È sullo sfondo di questo parziale ritratto generale dello status quo tra i due paesi che scoppiarono incidenti militari come la disputa dell'isola di Zimbau al confine con la Manciuria, o l'incidente di Tieli Echieti nello Xinjiang, dove una truppa sovietica neutralizzò una trentina di soldati cinesi, dando modo all'URSS di ottenere il controllo della regione che la Russia avrebbe restituito al Kazakistan solo nel 1999. Da parte loro, in quel periodo, i leader sovietici non nascosero neanche poi così tanto pubblicamente l'intenzione, remota ma comunque possibile, di invadere le regioni transfrontaliere occidentali della Cina, per impossessarsi così di aree scarsamente popolate, ma estremamente ricche di risorse. Solo dopo la morte di Mao nel 1976 e poi negli anni 80, quando le condizioni geopolitiche internazionali lo permisero, le relazioni tra Cina e Unione Sovietica sembrarono in qualche modo ammorbidirsi con una certa gradualità, ma di questo magari ne parleremo in un altro video. Comunque, per riassumere tutto, per riassumere questo pappone. Qual è la morale da portarsi a casa? Ciò che Khrushchev intendeva fare con il suo particolare atteggiamento era dimostrare che l'Unione Sovietica era per natura più capace e abile di condurre la rivoluzione socialista rispetto alla Cina. Se la Cina voleva restare sotto l'ala protettrice dei sovietici, sarebbe dovuta sottostare all'autorità di Mosca e Mao non avrebbe beneficiato, né a livello di prestigio personale né economico, di una cosa del genere. Il che ci aiuta a capire per quale motivo la Cina rimase comunque in netto contrasto con gli alti vertici di Mosca, nonostante ovviamente il miglioramento graduale con alcuni alleati del blocco sovietico. E questo attraverso una politica di differenziazione. Potremmo esemplificare il tutto con le parole che Mao riferì nel 1971 al dittatore romeno Ceaucescu. L'Unione Sovietica mi piscia sulla testa e io dovrei rispettarla? Non importa chi cerca di convincerci a risanare i rapporti. Noi non ci muoveremo di un passo. Più parlano, più i rapporti peggioreranno. Ragazzi miei, se siete state ad ascoltarmi fino a questo momento, non posso fare altro che ringraziarvi di cuore. Ci vediamo presto in un prossimo video. Per Aspera, ad Astra.